Bentornati a tutti quanti qua su F1 in generale dopo la gara di Monaco del 2024. Finalmente si è conclusa questa interminabile gara infinita, si contava giro dopo giro e sembrava che non passassero veramente mai. Probabilmente una delle gare più noiose della storia di Formula 1, ma questo è Monte Carlo. Ma voi ad ora siete qua per sapere ogni dettaglio di questa gara che pur noiosa ci ha regalato tantissime emozioni. Io vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi nessunissima tipo di notizia sulla Formula 1. E vi ricordo che dopo ogni weekend di gara e dopo ogni giornata c'è un nostro video. Quindi ci rivediamo sicuramente sui nostri social. Questa è la classifica finale che vede come vincitore un fantastico Charles Leclerc che questo fine settimana veramente non sbaglia un colpo. Dopo innumerevoli errori su questo tracciato è stato impeccabile. A partire dal venerdì è sempre stato velocissimo e preciso in ogni punto della pista. E questo è stato il risultato, infatti. Un podio che, come ci saremo aspettati, è stato identico alla griglia di partenza, quindi alle qualifiche del sabato. Quindi uno Charles Leclerc che vince di 7 secondi su Oscar Piastri, seguito da Sainz, Norris, Russell, Verstappen solamente in sesta posizione, Hamilton su Noda, Albon, Gasly, Alonso, Ricciardo, Bottas, Stroll, Sargent e Zoo. Sono stati quattro ritirati alla fine di questo Gran Premio, tutti e quattro per dei contatti al primo giro. Alla partenza Charles Leclerc parte benissimo, riesce comunque a tenersi dietro Piastri, che però a sua volta non riesce a partire tanto bene. Infatti si fa affiancare da Sainz e poi all'uscita della prima curva della Santa Devota Sainz tocca, ma leggermente, ma veramente leggermente, il fondo della macchina di Piastri e fora. Dopo la curva del Mirabeau, infatti, Carlos Sainz si vede già che aveva l'anteriore sinistra forata, il fondo gli grattava in terra e arriva lungo alla curva successiva perché non aveva più direzionalità con lo sterzo. Tutti quanti eravamo già disperati perché sapevamo che Sainz una volta finito in fondo, nonostante il passo superiore non sarebbe mai riuscito a risorpassare tutti quanti, però ha avuto la fortuna che dietro c'è stato un incidente ben più grave del suo, che ha coinvolto Sergio Perez, Hülkenberg e Magnussen. All'uscita della Santa Devota, Magnussen pensava di potersi affiancare a Perez per tentare un sorpasso, ma così non è stato perché gli spazi sono veramente minuscoli a Monaco. Il pirata danese si è trovato strinto tra Perez e le barriere si sono toccati e è finita in una carambola enorme che ha completamente disintegrato la macchina del messicano e mentre si girava inerme sbattendo sui muri ha preso anche purtroppo sul posteriore Nico Hülkenberg, quindi totalmente incolpevole e totalmente esterno ai fatti. Per fortuna non ci sono stati feriti se non da segnalare un fotografo che stava a bordo pista con ferite minori. Dopo delle piccole medicazioni il medical center è tornato senza alcun tipo di problemi. Così è stata distrutta la macchina del messicano che per ovvi motivi, dopo la bandiera rossa, non ha potuto continuare la sua corsa. Ma c'è stato un altro contatto abbastanza importante prima della bandiera rossa, Ocon ha provato un attacco molto difficile e molto rischioso sul compagno di squadra Gasly. Sulla curva prima di entrare nel tunnel è stato veramente un attacco molto rischioso, infatti i due si toccano e la macchina di Ocon finisce per aria. Nell'atterraggio rompe il fondo, fora una gomma, probabilmente si è danneggiata anche una sospensione perché è saltato veramente in alto e è stato costretto a ritiro pure lui. Al momento ci sono solamente delle sanzioni per Ocon. Si è preso 10 secondi di penalità che però, non potendoli scontare in questo Gran Premio perché si è ritirato, li dovrà scontare nel prossimo. Sicuramente verranno tramutati in posizioni di penalità sulla griglia. Il contatto tra Magnussen e Perez invece non è stato preso in considerazione almeno per ora. Sicuramente Red Bull potrà fare dei ricorsi visto che comunque di danni ce ne sono stati tanti. Ma comunque, nonostante a mio avviso è stata una manovra abbastanza rischiosa e pericolosa di Magnussen, non c'è stato alcun tipo di investigazione. Questo probabilmente perché Perez comunque si è trovato molto più a destra rispetto alla traiettoria convenzionale che fanno i piloti su quel tratto di pista. E quello può essere un espediente a favore di Magnussen. Vediamo poi nei prossimi giorni la FIA cosa avrà intenzione di fare. Per questo iscrivetevi al canale e seguiteci su tutti quanti gli altri social per non perdervi questa notizia. Dunque Bandiera Rossa quindi partenza, da fermi, sending start. Ma a questo punto Sainz è in fondo e invece no. Visto che Bandiera Rossa è stata esposta prima della fine del primo giro si prende come riferimento le posizioni in cui erano i piloti prima della fine del primo settore. E quindi Sainz riesce a ripartire in terza posizione. Riparte per la seconda volta il Gran Premio di Monte Carlo ma qui tutti quanti filano lisci senza alcun tipo di problema. Memory dal fatto che a Monaco se sbagli un minimo sei fuori. Riuscendo a sfruttare la Bandiera Rossa vengono cambiati degli pneumatici. Questo così si va a smarcare il pit stop e quindi non c'è più l'obbligatorietà di fermarsi. In questo caso i primi quattro vanno a mettere gomma dura sapendo che con una buona gestione sarebbero riusciti ad arrivare in fondo. Dietro chi aveva già gomma bianca in questo caso è andato a mettere gomma gialla. Quindi subito Russell, Verstappen e Hamilton. In questo caso però loro avendo una mescola molto più morbida avrebbero dovuto conservare e preservare di più la mescola per poter arrivare in fondo. Russell così inizia a girare molto molto più lentamente rispetto a chi aveva davanti. Infatti come vediamo dal grafico del passo gara in arancione Norris e in azzurrino Russell, Russell girava più di un secondo o un secondo più lento rispetto a Norris. Questo perché comunque la gomma gialla sapeva che sarebbe durata molto meno. Come abbiamo ripetuto all'infinito in un circuito come quello di Monaco non si sorpassa a meno che tu non giri 6 secondi, 5 secondi più veloce del tuo avversario. E quindi Verstappen e Hamilton si sono costretti a rimanere dietro di lui per tutto quanto il resto della gara. Quando poi comunque si erano resi conto che dietro avrebbero avuto il gap per poter fare un pit stop senza perdere le posizioni per poi magari provare a sorpassare Russell. Verstappen è riuscito in pochissimi giri a riprenderlo, infatti vediamo poi come da dopo il pit stop di Verstappen i suoi tempi si siano abbassati drasticamente. Arrivava a girare un secondo e mezzo più velocemente di Russell, a volte anche due secondi, quindi riprenderlo è stato molto semplice. Prenderlo è un conto, sorpassarlo è un altro. E infatti non ci ha riuscito, ci ha provato ovviamente per tre o quattro giri, poi ha visto che non era cosa, non era fattibile, si rischiava di fare il danno e buttare via tanti punti comunque preziosi in un campionato aperto come questo. E quindi decide di allontanarsi. I tempi ad Altalena li stavano facendo anche Piastri e Norris, infatti non c'è mai stata una marcata costanza, visto che comunque i piloti cercavano di gestirsi un gap con quelli dietro. Questo perché Leclerc e Sainz non volevano fare in modo che Norris riuscisse ad avere un pit stop gratuito, quindi un pit stop senza perdere posizioni, perché temevano che lui con una gomma fresca e più morbida sarebbe riuscito a prenderli, cosa che sarebbe accaduta sicuramente, e magari anche a tentare un sorpasso. Tentare un sorpasso non significa portarlo a termine, ma anche solamente un contatto e anche per loro buttare via la gara. Quindi è stata una gara poco veloce e altalenante principalmente per questo motivo, cercare di evitare che quello dietro avesse un pit stop gratuito. Ci sono riusciti, i primi quattro con gommatura non si sono mai fermati, uguale come non si è fermato Russell, però comunque è riuscito a non perdere la posizione. Al giro 50 Stroll tocca il muro sul tornante del porto, rientra, cambia gomme, tutto questo però senza una safety car. Al giro 54 di 78 Bottas riesce a sorpassare Joux e questo qua è il primo sorpasso in pista effettivo che vediamo da tutta quanta la gara. Verso il finale Leclerc ha deciso di alzare i tempi, anche se non ce n'era assolutamente bisogno. Dal box glielo fanno notare, ma lui comunque aveva fuga, aveva voglia di vincere e di vincerla bene, quindi giustamente ha fatto di testa sua non sbagliando assolutamente niente. Un grandissimo weekend da parte di Leclerc, ma anche da parte di Piastri che si sta dimostrando quanto ci saremo aspettati. Una precisione e una freddezza spettacolare, così arrivano tutti quanti in fondo senza alcun tipo di problema. Un weekend molto diverso rispetto a quelli che abbiamo visto finora, visto che Verstappen non è riuscito né a far la pole position né comunque ad arrivare sul podio. Nonostante il Gran Premio sia stato un po' quel che è, verso il finale questi giochi di prendere spazio e lasciare spazio hanno dato un pochino di più di brio al tracciato di Monaco. Soprattutto siamo tutti quanti contenti che Leclerc sia riuscito a togliersi la sua maledizione del Gran Premio di Monte Carlo di Dosso e a portare a casa una bellissima vittoria che abbiamo visto dedicare al padre. Gli aggiornamenti stanno funzionando, sicuramente stanno portando i loro benefici, ma dobbiamo tenerti conto che anche Red Bull non era in forma in questo tracciato. Probabilmente già dal prossimo Gran Premio del Canada, tra due settimane, potremo vedere la storia cambiare un'altra volta. Prima di lasciarci, andiamo a vedere come sono cambiati i punteggi dei campionati. Charles Leclerc è molto vicino a Max Verstappen con 31 punti di svantaggio, anche Lando Norris è lì, molto vicini, ci sono 25 punti, Carlos Sainz e Sergio Perez che sono tutti molto vicini. Piastri è un pochino più indietro, ma sicuramente vedremo che potrà avvicinarsi. Per quanto riguarda invece la classifica costruttori, anche qua vediamo i primi due molto vicini. Red Bull ha 276 punti, Ferrari ha 254, ben 24 punti di differenza. Per ora a questa gara qua è ancora tutto quanto aperto. Contro ogni pronostico questo campionato si sta rivelando spettacolare. Non vedo l'ora che arrivi il Gran Premio del Canada e voi ci ritrovate qua a commentarlo con voi su YouTube e su tutti quanti gli altri social. Quindi vi ringrazio per essere arrivati fin qui, ancora una volta vi ricordo di iscrivervi al canale e seguirci su tutti quanti i nostri social. Vi auguro una buona settimana.